Sono Riccardo Milanesi, autore insieme a Domenico Monreale di Futur 2045 e vorrei chiedere proprio a Domenico una cosa, ma la cultura esisterà ancora nel 2045? Grazie Riccardo per questa domanda, è molto interessante e calzante perché il nostro progetto è un progetto culturale di fatto, è un progetto di crowd storytelling che vuole interrogarsi su alcuni temi fondamentali, come si svilupperà la nostra società nel futuro. Cosa avverrà nel 2045? Supereremo la nostra mortalità, diventeremo immortali e se diventeremo immortali quale sarà la nostra realtà quotidiana da immortali? Supereremo il tabù della morte, supereremo il tabù della malattia, sono temi importanti e sicuramente per farlo dobbiamo creare eventi culturali, creare engagement, interesse e noi lo facciamo attraverso la narrazione e quindi ci siamo inventati questa agenzia di viaggi nel futuro che si chiama Future e lui ovviamente è l'autore, il creatore, l'ideatore di questa agenzia, per cui lascio a lui la chiusura di questa intervista. Quindi sì, ci sarà la cultura nel 2045, ci sarà Future nel 2045 e ci saremo anche noi speriamo.